Grazie per essere venuti qui, noi faremo quest'oggi un punto sulle proposte di legge sulla prescrizione e sul piano anticorruzione. Come tutti purtroppo sarete a conoscenza l'Italia è tra i paesi più corrotti d'Europa, il 69esimo posto addirittura per la corruzione percepita al mondo ed è in particolar modo in tema di prescrizione uno di quei paesi in cui vanno in prescrizione un milione e mezzo di processi in dieci anni circa. Negli ultimi dieci anni questo è il quantitativo di processi che sono stati cancellati con un colpo di spugna grazie a una disciplina sbagliata. Molte sono le segnalazioni che sono pervenute al nostro paese, al nostro governo in particolar modo, sul fronte dell'imbarazzante situazione nella quale ci troviamo, in particolare il rapporto OXE del 2013 sulla corruzione, la raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2013, ma si è arrivati addirittura a percepire questa situazione drammatica tramite le relazioni presentate per esempio dal primo presidente di Corte di Cassazione Santa Croce che quest'anno nell'inaugurazione dell'anno giudiziario ha proprio posto l'attenzione non solo sul punto di vista della corruzione, sul piano anticorruzione in generale, ma sulla prescrizione. Il governo Renzi spesso si è speso a parole su questo tema, ad agosto doveva uscire un famoso piano, un pacchettone anticorruzione, poi sul nodo delicato della prescrizione, soprattutto per via della delicata maggioranza che vede costantemente il governo in bilico, non è sostanzialmente uscito nulla fino ad oggi, si è rimasto in sospeso e ci si trova quindi oggi ad avere al Senato una legge anticorruzione di cui vi parleranno i miei colleghi Cioffi e Gianrusso, ferma da 738 giorni sostanzialmente, e alla Camera invece un testo sulla prescrizione che è arrivato in aula anche grazie al nostro lavoro. In materia di prescrizione, dal canto nostro, l'importanza di questo tema è stata da subito segnalata perché fin dall'inizio è stato presentato un testo di legge a prima firma del collega Colletti e sia in commissione che anche in questi giorni in aula c'è stata una volontà di discutere da parte nostra, insieme alla maggioranza nella speranza di poter modificare quelle che erano le idee della maggioranza, in questo caso solo del Partito Democratico, per migliorare quello che è un testo, quella prima firma ai ferranti, che di fatto non rappresenta del tutto la nostra posizione perché il nostro obiettivo sarebbe impedire il decorrere successivamente all'esercizio di un'azione penale. Fino ad oggi, soprattutto in commissione, ma anche in questi giorni in aula, c'è stata una grandissima chiusura da parte sia del Governo che della maggioranza del Partito Democratico, una chiusura chiara al dialogo costruttivo. Quindi speriamo che con questa proposta che viene fatta anche a fronte di mezzo stampa, la maggioranza riesca a scongelarsi e ci proponga un dialogo costruttivo per una volta per qualcosa che interessa veramente i cittadini. Allora, l'iter al Senato lo conoscete, il disegno di legge Grasso numero 19 è stato presentato il primo giorno della legislatura e stiamo ancora aspettando che arrivi in aula. Questa è la situazione, non c'è bisogno di dire che è una situazione triste e drammatica per un Paese in cui la corruzione la fa da padrona ed è il vero cancro che noi dobbiamo estirpare, anche perché la corruzione produce dei danni rilevanti per i cittadini, direttamente per loro, perché è quello che sottrae le risorse che servono ai cittadini per vivere meglio, per avere uno Stato più equo, per fare anche il reddito di cittadinanza, che come sapete è il nostro punto fondamentale della nostra visione strategica e politica. Il Movimento 5 Stelle chiede da sempre, da quando siamo entrati in Parlamento, che questo test arrivi in aula. Come sapete l'abbiamo chiesto tante volte, anche subito dopo che il Presidente Mattarella disse quelle parole di fronte alle quali tutti applaudirono e il giorno dopo votarono per non portarlo in aula. Questo è quello che succede e la quotidiana è triste realtà. Arriva in aula mercoledì, abbiamo chiesto di anticipare, però mercoledì dovrebbe essere in aula. Adesso vediamo un pochino che cosa succede, però alcune cose noi le dovremmo pure dire. Il Parlamento può fare in linea teorica la migliore legge di corruzione, può fare una legge di corruzione perfetta, quella che noi sogniamo e magari idealizziamo. Però la corruzione si sconfigge partendo da noi stessi. Cioè noi, in qualità di cittadini più che di rappresentanti politici, dobbiamo rifiutare l'idea stessa della corruzione. Se qualcuno ti porta una mazzetta, tu non te la prendi. E se qualcuno te la chiede, tu non gliela dai. Così si sconfigge la corruzione. E questo è quello che noi abbiamo sempre detto, le leggi sono perfette, ma gli uomini devono essere onesti. Che cosa vuol dire quello vogliamo un'Italia onesta, vogliamo l'onestà? Vuol dire quello, vuol dire partire da noi stessi. E forse c'è anche un problema che in questo paese, se vediamo la popolazione carceraria, forse di colletti bianchi in galera, ce ne sono pochi. Forse sarebbe il caso di vedere quanti colletti bianchi sono in galera. D'altra parte, vi ricordate quella famosa intervista di Piercamillo Davigo, dove disse qual era la popolazione carceraria negli Stati Uniti e qual è la popolazione carceraria in Italia. Forse bisognerebbe ripartire da questi temi e poi entrare nel dettaglio, però dobbiamo ripartire dai noi stessi e da quello che è il sistema che noi proviamo a sconfiggere. E che dobbiamo sconfiggere, dobbiamo agli italiani, quello che è successo ultimamente con alcuni boiardi di Stato, chiamateli così, oppure supermanager, ultimamente è evidente. Noi dobbiamo partire da quello, dobbiamo far rispettare le leggi, ma dobbiamo far sì che quando qualcuno ti chiede una tangente, tu non gliela dai. E se qualcuno ti offre una tangente, tu non solo gliela dai, ma vai in procura a denunciarlo. Riusciamo a fare questo come i cittadini tutti quanti? Poi nel dettaglio delle proposte passo la parola ad Andrea, credo. Allora, innanzitutto, finalmente dopo molti mesi siamo riusciti a far calendarizzare questa proposta di legge in aula. Eravamo pronti già teoricamente da settembre 2013, quando chiedemmo a gran voce in commissione. Siamo stati stoppati dal Governo per vari mesi in attesa di un loro provvedimento, perché a quanto pare bisogna sempre aspettare il Governo per fare qualcosa in questo Paese, quando in realtà il Parlamento potrebbe lavorare autonomamente. L'intervento del Governo non c'è stato dopo mesi e mesi. E finalmente, dopo un anno e mezzo della presentazione, portiamo la proposta di legge sulla prescrizione in aula. Ovviamente c'è da dire che quando abbiamo visto gli emendamenti in commissione, questa proposta di legge nostra è stata totalmente depotenziata. Noi proponevamo delle questioni molto semplici, inizialmente. La prima, quando inizia un processo, ovvero quando un indagato diviene imputato in un processo, allora è lì che per noi era il momento per sterilizzare il decorre della prescrizione. Così come succede in altri Paesi, soprattutto quelli di Common Law, ad esempio, o come succede in Spagna. Perché lì lo Stato ha interesse a perseguire quella persona che è imputata in un processo. Ed ha interesse soprattutto a tutelare quella persona offesa. Perché ricordiamoci, quando c'è un reato, non c'è solo sempre un imputato, un indagato, ma ci sono soprattutto delle persone offese, cosa di cui ci scordiamo troppo spesso in questo Paese. Ovviamente la gran maggioranza, anzi noi eravamo gli unici a portare avanti una idea del genere. Tant'è vero che è emerso ciò che è emerso dalla proposta di legge Ferranti, che poi è stata associata alla nostra, per cui quindi adesso abbiamo, come ipotesi da portare in aula, e vediamo se sarà confermata, la sospensione solo per due anni in caso di condanna in primo grado, e la sospensione solo per un anno in caso di condanna in appello. Vengono aumentati i termini di prescrizione solo per tre reati del codice penale, che sono corruzione semplice, aggravata, propria, impropria e per atti giudiziari, e non per tutti gli altri. E soprattutto, al nostro punto di vista, non viene toccata quella parte della legge ex Cirielli, che ha creato tanti danni al nostro sistema penale e processuale, soprattutto. ovvero il 161,2, lì dove prevede che, in ogni caso in visione interruzioni, esse non possono andare oltre il tempo necessario per scrivere più un quarto. Questa norma fu fatta apposta per determinati processi molto conosciuti, ma non serviva solo a quello, serviva a un numero impressionante di indagati, imputati, soprattutto per reati contro la pubblica amministrazione, ma non solo. Pensiamo alla truffa, pensiamo all'omicidio colposo, uno pensa all'omicidio colposo, l'omicidio colposo si proscrive in sette anni e mezzo, che è una cosa improponibile quando pensiamo alle persone che subiscono, ai familiari di persone colposamente uccise per qualsivoglia motivo. Quindi non siamo d'accordo con questa idea che è stata portata avanti in commissione, più che altro perché si rivelerà sostanzialmente inutile, ce lo dicono in molti magistrati, perché non porterà a minori processi d'appello, a minori ricorsi in Cassazione, quindi ci troveremo a avere sempre le stesse dinamiche. Da ultimo, la vicenda del famoso Soria, che mi sembra si chiama Soria, del premio Grinzank-Avur, condannato in primo grado per 14 anni, dopo la sentenza d'appello, vista le prescrizioni su truffe e malversazioni, la pena è stata ridotta di 5 anni e mezzo addirittura, senza cambiare nulla nel merito. Questo fa comprendere come sia sbagliata anche quella proposta di sterilizzare solo per due anni. Vi do un dato. A Roma, dopo il rinvio a giudizio, ci vuole un anno e mezzo per la prima udienza dibattimentale. Un anno e mezzo solo per la prima udienza dibattimentale qui a Roma. Allora vorremmo arrivare ad un compromesso con le forze di maggioranza, almeno quelle di buona volontà, per poter votare a favore di questa proposta. Noi vogliamo votare a favore per un semplice fatto, l'abbiamo portata avanti noi. Siamo stati in prima fila, in prima linea a portarla avanti, quindi vorremmo davvero fare qualcosa di utile e votarla a favore. Così com'è, ci è impossibile, perché non possiamo accettare i compromessi così a ribasso. Ma con delle opportune modifiche, e ne bastano davvero poche, potranno avere il nostro voto a favore. E queste modifiche sono essenzialmente tre in realtà. Una è la sterilizzazione completa della prescrizione con la sentenza di condanna di primo grado, in grado di appello. Una volta avuto una prima condanna, non si può più accettare che il reato venga prescritto, cade in prescrizione. È davvero inaccettabile sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista del processo penale. Se vogliamo processi più brevi, dobbiamo avere anche meno processi in appello e meno ricorsi in cassazione. Questo è un modo. La seconda è quella di allungare il termine minimo per la prescrizione, ma non solo per tre reati. Non ha senso allungarlo per tre reati e non per tutti gli altri reati del codice penale. Ma ha senso allungarlo in misura, magari anche minore, ma per tutti i reati. Quindi, mentre adesso la prescrizione minima va con il massimo dittale della pena, noi proponiamo come compromesso, e ovviamente non è la nostra posizione migliore, che almeno quel massimo della pena dittale sia aumentato per tutti i reati almeno di un terzo. L'ultimo è cambiare totalmente la legge ex Cirielli all'articolo 161,2, ovvero prevedere che per tutti i reati le interruzioni della prescrizione non possono comportare l'aumento di più del doppio del tempo necessario a prescrivere. Adesso è il massimo della pena dittale più un quarto. Noi chiediamo il doppio del massimo della pena dittale, quindi capite bene la differenza. Molti casi non sarebbero prescritti facendo questo. E molti casi non sarebbero prescritti non in appello in Cassazione, in questo caso, ma direttamente in primo grado. Perché vi ricordo che la maggior parte dei reati sono prescritti o in primo grado o durante le indagini preliminari. Nonostante tutte le indagini, nonostante magari le intercettazioni. Io vi faccio un piccolo esempio. Nella mia città ho presentato un esposto due mesi fa per abuso d'ufficio e per dieci giorni il reato è caduto in prescrizione. Si tratta di 800.000 euro di danno in un piccolo comune. Quindi sono cose che accadono tutti i giorni in tutti i comuni con moltissime persone vittime dei reati. Questa è la nostra preoccupazione. c'è un altro punto molto piccolo ovvero a chi si applica questa nuova norma. Noi chiediamo che venga applicata almeno a chi ha avuto almeno una sentenza di condanna o in primo grado in appello. Anche la Corte Costituzionale ce lo permette perché dice che ci deve essere comunque ed è permesso un bilanciamento degli interessi tra l'irretroattività della legge penale e la nuova legge e quindi chiediamo che almeno queste norme più favorevoli anzi meno favorevoli verso gli imputati o i condannati si applicano almeno a quelli condannati in primo grado o in grado di appello. Ci sembra proprio il minimo necessario. E questo per chiudere la parte sulla prescrizione poi magari se avete domande ora passo la parola al mio collega Gianrusso per la parte sulla corruzione al Senato. Il disegno di edge anticorruzione cosiddetto che parte dal disegno di legge 19 presentato dal presidente Grasso il primo giorno della legislatura ha avuto un percorso come sapete ad ostacoli perché si è impantanato in una sorta di palude che lo ha completamente stravolto. Non possiamo più definirlo un provvedimento anticorruzione perché ne hanno cambiato il volto. Vi faccio alcuni esempi il provvedimento il segno di legge Grasso prevedeva una norma che noi condividevamo sul voto di scambio politico mafioso è stata stralciata inspiegabilmente nel testo che stiamo discutendo abbiamo aumentato le norme per l'associazione delinquere di stampo mafioso quindi non si capisce perché non si possa porre mano al voto di scambio politico mafioso visto che la norma che è stata approvata lo scorso anno è una norma che la Cassazione dice non solo più favorevole dal reo non solo che prevede un assurdo sconto del 42% della pena ma che dicono i magistrati è una norma impossibile da applicare perché richiede una prova impossibile da produrre il famoso accordo sul metodo mafioso arrivando ragionavamo con dei PM a degli esiti ridicoli e cioè che quando ci sarà una fattispecie di questo tipo cioè un incontro fra un politico e un boss mafioso e questi si stanno accordando per l'appoggio elettorale a un certo punto guardate capiterà sicuramente noi entro uno o due anni troveremo qualcosa del genere a un certo punto il politico dirà al mafioso mi raccomando i voti non li voglio col metodo mafioso ma perché lo dirà non per fare una battuta anzi lo dirà ad alta voce per mettersi le spalle al sicuro perché se per caso come capita il mafioso è intercettato questa dichiarazione lo salva lo salva questa dichiarazione registrata lo salva dal reato l'autoriciclaggio il disegno di legge grasso attenzione stiamo parlando di un disegno di legge del massimo esponente del PD al Senato cioè non un disegno di legge del Movimento 5 Stelle prevedeva una norma che noi condividevamo equiparando il riciclaggio all'autoriciclaggio anche di questo è stato fatto di tutto per renderlo inoffensivo per renderlo inoffensivo noi abbiamo una strategia messa in atto e si capisce anche dalle modalità il relatore non è del PD il relatore è Dascola che sapete benissimo essere del centrodestra è un raffinato giurista docente di diritto penale ma è anche noto alle cronache come l'avvocato di Tarantini quindi non si tratta di una persona venuta fuori così da esperienze politiche particolarmente qualificanti e ovviamente che cosa fa questo professore di procedura penale tutto quello che può dalla sua esperienza dalla sua capacità ovviamente per rendere le norme le meno offensive possibili norme previste sempre ripeto dal da esponenti del PD voi immaginate che sul falso in bilancio il PD in commissione giustizia aveva presentato degli emendamenti emendamenti che noi eravamo pronti a votare nemmeno quelli andavano bene perché c'è un accordo all'interno della maggioranza sul rendere il meno offensivo possibile per chi per chi commette i reati queste norme e questo accordo non si può toccare all'interno della stessa maggioranza non possono nemmeno loro proporre emendamenti e modifiche perché arriva il parere negativo di governo del relatore ovviamente e quindi andiamo al falso in bilancio il disegno di legge grasso prevedeva un falso in bilancio assolutamente efficace condivisibile ripeto eravamo pronti a votarlo era sempre la stessa stessa noi eravamo pronti a votare quelle norme quello che hanno fatto adesso hanno detto che hanno eliminato le soglie non è così perché con l'introduzione della valutazione del fatto da parte del magistrato della particolare tenuità del fatto potrà accadere che grandi società che compiono dei falsi in bilancio se il magistrato ritiene che è tenue in proporzione alla società e al fatturato ma si può trattare con società grosse di falsi in bilancio per milioni e milioni di euro e quindi voi come sapete benissimo il falso in bilancio spesso è la provvista per le mazzette per i fondi neri quindi si tratta di fondi che comunque possono influire pesantemente nella vita politica di questo paese nella vita economica di questo paese ebbene potrebbe anche non essere punibile perché in relazione a una società di grosse dimensioni un falso in bilancio di qualche milione di euro che può servire a pagare una mazzetta non è punibile il disegno di legge grasso prevedeva la possibilità di agire sotto copertura cioè le forze dell'ordine come succede in tutti i paesi civili e democratici dell'occidente dove possono operare sotto copertura per scoprire la corruzione ebbene il disegno di legge di grasso prevedeva questa possibilità i nostri emendamenti lo prevedevano sono stati rigettati le forze dell'ordine non potranno agire sotto copertura per scoprire le varie cricche che abbiamo visto si possono annidare nei ministeri o nelle strutture che operano con gli appalti pubblici anche la corruzione tra privati che era un elemento caratteristico del disegno di legge grasso che prevedeva una possibilità di anticipare la tutela eliminando la punibilità a querela anche questo è stato bocciato parliamo di un elemento che ha qualificato alcuni dei lanci e dei proclami di Renzi il DASPO per i politici dobbiamo fare il DASPO anche per i politici forse veniva da qualche partita non so che cosa aveva visto bene il film che noi abbiamo visto al senato è un altro il DASPO non l'abbiamo previsto come emendamento ed è stato bocciato l'interdizione e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per le imprese corruttrici e per i politici con ali per corruzione è stato bocciato ancora più grave a noi sembra addirittura il disegno di legge che è a parte rispetto all'anticorruzione che riguarda le misure cautelari dove è stata bocciata bocciata l'automatica presunzione di idoneità della misura cautelare in carcere per i reati di scambio elettorale politico mafioso corruzione e reati contro la pubblica amministrazione cosa vuol dire vuol dire che il percorso preferenziale per questi reati non sarà il carcere sarà altro sarà altro quindi sembra difficile ipotizzare che questo governo riesca a manifestare una reale volontà di lotta alla corruzione quello che noi vediamo è un'operazione di macchiage in cui lo stesso Grasso dice non chiamatelo disegno di legge Grasso perché non ha niente a che vedere con quello che io ho presentato ed è vero è un testo che viene approntato non si sa dove perché ripeto quando noi vediamo gli stessi senatori del PD che presentano emendamenti non abbiamo nemmeno il tempo di dire vorremmo sottoscriverli siamo pronti a votare che o glieli fanno ritirare o in commissione dicono gli ammissibili cioè allora dov'è che discutono di questi testi ma soprattutto con chi discutono di questi testi qual è la maggioranza che sostiene questo governo questa è la verità perché avendo un'amplissima maggioranza alla Camera e con nostro appoggio al Senato questa norma anticorruzione poteva passare benissimo senza nessun problema evidentemente qualcuno ha fatto della norma sulla corruzione un elemento di un accordo politico e a noi sembra inammissibile perché qua sulla corruzione sono di quelle norme su cui le scelte politiche si diceva una volta la politica non si dovrebbe dividere era come la volta il terrorismo una volta la mafia ci possiamo dividere su scelte strategiche se vogliamo fare la tav o un'altra cosa è legittime ma sulla corruzione chi mai può dire che non vuole la lotta alla corruzione ebbene qualcuno lo dice ma non lo dice apertamente non lo dice in aula lo dice in stanze dove nemmeno gli stessi membri del Parlamento della maggioranza entrano evidentemente perché sennò non presenterebbero emendamenti che poi vengono bocciati grazie faccio l'ultimo intervento per concludere allora il governo evidentemente sta temporeggiando 738 giorni per approvare il disegno di legge grasso e quasi lo stesso periodo per arrivare alla prima lettura della riforma della prescrizione sta temporeggiando nonostante in Italia gli scandali che hanno come oggetto la corruzione continuano ad emergere Mosexpo ultimamente la questione in calza Roma capitale e cosa possiamo fare allora alcune proposte le avete sentite e si potrebbero attuare da mettendoci d'accordo potremmo metterle per diventare leggi da subito anche perché ce lo chiedono anche gli imprenditori che quando si affacciano all'Italia scappano gli imprenditori esteri non vengono più a investire in Italia le stesse aziende che lavorano sul territorio si devono scontrare con una burocrazia macchinosa che molto spesso viene oliata proprio con il meccanismo della corruzione si dice che in Inghilterra ci mettano tre ore a fare un'impresa da noi quasi un anno giusto per darvi un criterio di paragone ci sono insomma delle pratiche a macchia di leopardo virtuose ultimamente c'è stata l'agenzia delle entrate che ha istituito il regolamento interno per le segnalazioni dei dipendenti e oggi su un articolo di giornale leggiamo che il ministero dell'economia e delle finanze con Cantone ha stipulato una sorta di decalogo leggiamo un piano di prevenzione una nomina di responsabile anticorruzione parlano di trasparenza sul quale insomma siamo molto indietro a livello di amministrazione italiana parlano di rotazione degli incarichi che già ci dovrebbe essere soprattutto per i dirigenti e di un tema di cui il Movimento 5 Stelle parla da quando siamo arrivati in Parlamento che qua viene detto tutela gole profonde è un'accezione negativa di un termine che in realtà a livello internazionale ha una valenza molto positiva che è whistleblowing whistleblower è quella persona che all'interno delle istituzioni ma anche in un posto di lavoro in una vita privata viene a contatto con materiale che può essere diciamo così prova di qualche reato di corruzione o anche di falsi fiscali noi abbiamo fatto questa proposta di legge che adesso è incardinata in Commissione Giustizia a breve anche in Commissione Lavoro che ha l'obiettivo di intanto cercare di introdurre un criterio positivo cioè che è quello di cambiare un po' la cultura del nostro paese perché qua lo dicevano prima i miei colleghi quasi quasi ti viene automatico dire se ti chiedono una mazzetta la dai e invece bisogna cambiare anche questa modalità e bisogna anche cambiare l'idea che se si segnala se si vuole dire attenzione qua sta succedendo qualcosa non si è spia non si è dell'attori ma si sta facendo un servizio ai cittadini soprattutto se le cose che si si segnalano hanno delle ripercussioni economiche e sociali incredibili pensate se all'interno del gruppo Cirio ci fosse stato un dipendente che sicuramente c'era che con carta e la mano aveva magari individuato che già al tempo ci potevano essere delle ripercussioni grosse negli investimenti dei cittadini non è stato fatto niente ma se al tempo ci fosse stata una legge che tutelava i whistleblower quindi i segnalatori di leciti quanti risparmi dei cittadini sarebbero stati salvaguardati moltissimi noi con questa proposta di legge tuteliamo anche l'anonimato mi è stato contestato giustamente che a un certo punto della procedura bisogna emergere sì è vero in fase processuale la persona dovrà in qualche maniera testimoniare però è importante garantire l'anonimato perché appunto in questo momento la cultura italiana non permette a una persona che segnala di essere di farlo in tranquillità perché l'alternativa è la vessazione il licenziamento il mobbing con una serie anche di ripercussioni personali familiari e anche di salute non da poco noi come ispirandoci al modello americano abbiamo previsto anche un premio cioè sulla sentenza della corte dei conti che grazie alla segnalazione dice che si sono recuperati non so 20 milioni 20 mila euro la persona che ha segnalato riceverà un premio tra il 15 e il 20% della somma recuperata questo è quello che prevediamo ed è una oltre che uno stimolo è anche un modo per ricompensare una persona che si è esposta perché vi assicuro che in Italia ci sono molte persone molti whistleblower che lo fanno per spirito della comunità per salvaguardare il bene comune e purtroppo sono abbandonati a loro stessi noi queste persone sono tante sono persone normali sono persone come noi come voi che hanno avuto il coraggio di alzare la testa di denunciare purtroppo lo stato culturale di questo paese non ci permette di aiutarle noi vogliamo invece che oltre che sanzionare e reprimere certi tipi di reati ci sia anche una forma di prevenzione e una forma di prevenzione è anche questa la tutela di whistleblower allora siamo andati un po' lunghi non so se adesso ci sono delle domande da parte vostra alle quali noi risponderemo con piacere volevo chiedervi se adesso avete fatto questa diciamo proposta con tre modifiche siete disponibili a votare la legge sulla prescrizione se ci sono queste tre modifiche volevo chiedervi se c'era stato qualche contratto preliminare con le forze di maggioranza su questo punto insomma prima della conferenza insomma se ne avete parlato con qualcuno allora sul punto ti dico già le forze di maggioranza all'interno della commissione giustizia conoscono più o meno la nostra posizione anche perché questo è ciò che già abbiamo detto anche in sede di votazione in commissione dove non si poteva andare oltre adesso l'abbiamo sistematizzato tant'e vero abbiamo fatto proprio un emendamento che racchiude questo che potrebbe semplificare il tutto non c'è stata ancora un'interlocuzione ma per un semplice fatto perché noi crediamo che il dialogo debba essere fatto in Parlamento non dietro le commissioni dietro le aule al buio debba essere fatto con le carte alla mano in cui tutti possono esprimere la propria opinione ancora più utile in questo caso noi buttiamo in questo caso un sasso anzi un sasso diamo la possibilità a maggioranza di raccogliere questa nostra buona volontà possiamo dire e ci aspettiamo che l'accolgano o non l'accolgano ma in aula davanti a tutti pubblicamente come abbiamo sempre fatto cioè non ci interessano quegli accordi sotto banco in cui ma dai se voi ci date questo non vi diamo in cambio questo deve essere avuto la luce del sole cosa c'è di meglio di andare in aula e verificare la luce del sole quali sono le posizioni dei vari gruppi parlamentari potremmo farlo già in commissione non ci hanno permesso adesso aspettiamo l'aula poi alla luce della conferenza qualora siano d'accordo benvengano sempre sul stesso punto perché l'onorevole colletti diceva che le cose insomma si fanno nel Parlamento però voi siete qui a fare una conferenza stampa per proporre una cosa a mezzo stampa alla maggioranza no volevo chiedere voi appunto avete tre punti che volete che in qualche modo vengano introdotti per in cambio per votare però qual è la moneta di scambio soltanto il vostro voto la vostra disponibilità a votare a votare sì o c'è qualche punto sul quale siete disposti ad andare incontro al governo mi spiego meglio se il se passano queste tre queste tre modifiche che il Movimento 5 Stelle propone c'è qualcosa sul quale voi potete spingervi di più sulla sulla sulle posizioni del governo o no questa è la proposta appunto e basta no perché così evidentemente sarà difficile no se si è la proposta per esempio sul punto sul punto tecnico risponde Andrea io volevo dare una risposta di altro tipo noi non facciamo proposte a mezzo stampa le nostre proposte sono su carta quindi non è che noi siamo qui per proporre al PD fate queste cose gliel'abbiamo già detto è certo ma la proposta l'abbiamo già fatta lo stiamo comunicando a voi non alla maggioranza e questa è la differenza semantica se mi permette l'aveva semplicemente detto prima l'onorevole D'Adone che faceva una proposta a mezzo stampa però non confondiamo le nostre proposte le facciamo in aula in commissione per iscritto e questa conferenza stampa serve per comunicare a voi all'esterno ai cittadini quali sono le proposte che abbiamo già fatto alla maggioranza quindi il concetto è questo è un approccio semantico siamo diversi da Renzi siamo profondamente diversi allora dal punto di vista tecnico in realtà questi tre punti dal nostro punto di vista sono già un forte compromesso rispetto alla nostra proposta quella che abbiamo portato avanti con la proposta di legge già che noi abbiamo portato avanti la proposta per cui sterilizzavamo la prescrizione con il rinvio a giudizio qui siamo andati ben oltre quindi dopo la sentenza di condanna di primo grado quindi già un forte compromesso a ribasso quasi lo sarei dire da un certo punto di vista però che può andare comunque a sistematizzare la materia perché il vero problema è non dobbiamo fare norme così solo per farle ma dobbiamo andare a incidere davvero sul processo penale quindi andare a verificare che tali norme non creino uno sconquasso o siano disorganiche rispetto al processo penale quindi essenzialmente non servano allo scopo ultimo delle norme stesse pertanto questa non è la norma minima che possiamo provare con i nostri voti non è un punto di partenza in questo caso perché il punto di partenza per noi era già quello che avevamo proposto con la proposta di legge se posso se posso scusate al senato è ancora più divertente rispetto a questo noi chiediamo solo di poter votare agli emendamenti del PD se ce li fanno votare siamo disponibili a votare non è dico mi pare che alcuni sì altri bocciati mi dicono che vengono ripresentati per l'aula perché il ritiro era per l'aula vedremo che cosa succede poi li vediamo man mano che vengono presentati dico ma farceli votare vuol dire che li ripresentano e poi li votiamo quindi sono i loro emendamenti non è che una cosa rapida in sintesi perciò se accogliessero due dei tre punti per voi non andrebbe bene giusto? ho sbagliato? guarda ti dico ci sono alcuni punti rinunciabili proprio che possono essere quello della legge ex ciorielli che è un abominio in realtà da un punto di vista penalistico processual penalistico ed anche quello inerente la condanna in primo grado cioè non ha senso andare oltre la condanna in primo grado è proprio il minimo sindacale per noi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti